Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Subito i titoli del nostro sommario Non si placano le polemiche per la mancata pulizia delle aule dopo le votazioni La Lega Fano punta il dito contro l'assessore che ha scaricato le responsabilità sui videlli Matteo Salvini incontra gli eletti del Carroccio nelle Marche Governeremo questa regione per dieci anni Acquaroli non si sbilancia sulla nuova giunta Attendiamo la proclamazione degli eletti Il caso Aule Sporche La sconfitta di Minardi che accusa il sindaco di non averlo aiutato Questi altri argomenti nell'intervista al sindaco di Fano Massimo Seri In collegamento da Piazza 20 Settembre Sicurezza sulle strade A Fano un gruppo di genitori preoccupato per i loro figli Che vengono lasciati dagli autobus In un tratto di strada dove i camion sfrecciano a grande velocità Alla Pinacoteca di San Domenico Una serie di eventi che spaziano dalla letteratura all'arte e alla musica Promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Benvenuti cari telespettatori di Fano TV A questa nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla notizia Apriamo con la politica Oggi il leader della Lega Matteo Salvini È tornato nelle Marche Per incontrare gli eletti alle recenti elezioni regionali Insieme a lui gli esponenti del partito E il neogovernatore Francesco Acquaroli Simona Zonghetti La Lega si occupa da sempre in tutte le regioni Penso all'agricoltura, alla difesa del territorio Al turismo, all'ambiente Però ogni regione fa storia a sé Le Marche sono un territorio straordinario Ripeto, dopo decenni Il voto di domenica e lunedì Ci assegna un ruolo fondamentale Quindi sono ben contento di essere qua in questo giovedì Per lavorare I festeggiamenti per noi sono durati mezza giornata Adesso è già il tempo del lavoro Matteo Salvini è tornato nelle Marche Per incontrare gli eletti, i non eletti E gli esponenti del partito Che hanno contribuito alla vittoria del centrodestra Con la Lega primo partito della coalizione E secondo a livello regionale Il leader del Carroccio ha raggiunto Castelfidardo In provincia di Ancona Dove ha fatto un bilancio dell'ultima tornata elettorale È la prima regione dove ritengo mio piacere Prima che mio dovere esserci Per ringraziare, per la fiducia Che vale più dei voti Per i voti ovviamente Per la responsabilità Essere il primo partito in consiglio regionale È sicuramente motivo di orgoglio, di gioia Ma dobbiamo lavorare bene e il doppio Curioso, ha proseguito Salvini Come qualcuno sia riuscito ad interpretare queste elezioni Dove c'è una sola regione che ha cambiato colore Se vinci 2-0 Vinci 2-0 Poi non è che Ah però insomma pensavamo di poter vincere 8-0 Abbiamo vinto solo 2-0 Qua se c'è qualcuno che ha perso qualcosa è Zingaretti Non parlo per carità di patria dei 5 Stelle Che sono stati eliminati democraticamente Da interi consigli regionali Quindi conto di avere problemi simili Per i prossimi vent'anni Ecco mi piacebbe avere questi problemi Anche alle prossime elezioni politiche Da presidente del consiglio Poi Zingaretti festeggia la sconfitta Però io quelli che festeggiano Li ammiro sempre Bocche cucite invece sulla composizione della giunta In base alle competenze Ha precisato Ci occuperemo di alcuni settori in particolare Come l'agricoltura La difesa del territorio Il turismo E l'ambiente Non do nomi O targhetti a caso In base alle competenze Noi abbiamo eletto 8 8 consigli regionali Non li abbiamo mai avuti nella storia delle marche Da che esistono Quindi sarà una bella sfida Dopo l'incontro con la stampa Il senatore ha tenuto una conferenza Che Fano TV ha trasmesso in diretta Alla presenza del neopresidente della regione Francesco Acquaroli Spesso abbiamo sempre detto A partire dalla ricostruzione A partire dalla sanità A partire dalle infrastrutture Il lavoro Sono le sfide che i marchigiani Più di tutti ci hanno messo Come priorità E che noi dobbiamo assolutamente Deere in debita considerazione Non sono ancora stato proclamato Ha ribadito Acquaroli Soltanto dopo Inizieremo a pensare alla nuova giunta Invece dovrebbe essere convocato Per il prossimo 19 ottobre Il primo consiglio regionale Dell'undicesima legislatura Sicuramente ci prenderemo l'impegno E l'incarico politico E non solo Anche umano Di coinvolgere tutti quelli Che hanno dato un contributo determinante Perché il concetto di squadra È un concetto assolutamente vincente Che dobbiamo tenere in considerazione Grazie per tutto quello che avete fatto Ad accogliere Matteo Salvini È stato il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti Insieme ad altri esponenti del partito È stato un grande successo Ha commentato Riferendosi all'ultima tornata elettorale È il miglior risultato della Lega A livello nazionale Pur senza aver espresso Il candidato governatore L'importante era vincere Su quella prospettiva Che abbiamo dato A questa straordinaria regione Da qua ai prossimi 10-15 anni E iniziare a lavorare per il territorio Perché il lavoro vero inizia adesso Quindi l'importante era quello Poi inizieremo a ragionare ora Su chi sarà la squadra di governo Che andrà a governare Questa straordinaria regione Anche in quota Lega Dando priorità sicuramente Al consenso personale Quindi alla delega ricevuta Dal territorio da parte dei cittadini Ai curricula E alla rappresentanza Di vari tessuti imprenditoriali Che ci sono nel territorio marchigiano E tra i papabili Rientra Mirko Carloni Il più votato del partito di Salvini Nelle Marche Con oltre 6.800 preferenze Per Carloni Già consigliere di opposizione Nell'ultima legislatura C'è chi ipotizza Anche il ruolo di presidente Del consiglio regionale Un momento importante Un incontro con Salvini Beh intanto la puntualità È molto importante Abbiamo tutti quanti noi La soddisfazione del risultato Ma sentiamo anche La responsabilità del risultato Perché anche per strada Insomma la gente ci comincia a dire Ragazzi vi aspettiamo al Varco E vogliamo da voi Un cambiamento vero Che sia nei fatti Che sia nelle scelte Che sia nelle cose che farete Quindi dobbiamo lavorare da subito Non ci siamo riposati neanche un giorno E oggi è un momento molto importante Perché viene Salvini E la trattativa con gli altri partiti La sta gestendo ovviamente Direttamente lui Tramite l'onorevole Riccardo Marchetti E è un momento importante E delicato Dove si consumano anche i riti istituzionali Che ci sono in queste fasi Diciamo di composizione Dell'organo di governo E poi delle altre cose Perché poi prima si parte E meglio è Altro fanese eletto Nelle fila della Lega È Luca Serfilippi Che ha ottenuto più di 3.300 voti Oggi ha confermato la volontà Di mantenere anche il ruolo Di consigliere comunale Senza percepire il compenso Non essendoci un'incompatibilità Tra le due cariche È andata molto bene Queste giornate Ancora sto continuando a lavorare Quindi sono molto molto impegnative E mi scuso con chi non riesco a rispondere Ma ho migliaia di messaggi E detto questo Oggi il nostro segretario federale Ci ha ringraziato tutti Sia gli eletti Che i non eletti Abbiamo fatto un gran lavoro di squadra Che dovremo continuare Perché da oggi Dobbiamo andare Veramente a governare E quindi cambiare radicalmente La nostra regione Marche Per me che sono uno dei più giovani Forse il più giovane eletto In consiglio regionale Insieme a un altro Di Fratelli d'Italia È una responsabilità maggiore Perché veramente tanti ragazzi Tanti giovani Mi hanno chiesto risposte concrete Quindi oggi più che mai Sento il peso di questa responsabilità Continuerò come sempre Il mio impegno Sia in regione Che in comune Perché credo che Debbono cambiare molti meccanismi Dobbiamo fare squadra Tutti insieme Perché abbiamo una coesione unica Per rilanciare La nostra regione Marche In particolar modo La nostra provincia di Pesururbino Dalla costa all'entroterra Allora a questo punto Della scaletta Dovevamo proporvi Un servizio Che riguarda Le aule In disordine Lasciate in disordine Dopo le votazioni Però Dobbiamo E siamo in qualche modo Costretti A cambiare Appunto la scaletta Del nostro telegiornale Perché Dobbiamo collegarci Con Simona Zonghetti Che si trova In via Montevecchio A Fano Dove poco fa C'è stato Un incidente Autonomo E allora Ci racconti un attimo Che cosa è successo Sì Marco Esatto Un incidente autonomo Che ha coinvolto Un sacerdote Don Giuliano Marinelli 87-88 anni Ex parroco Di Rosciano E di Tavernelle Nonché ex Direttore Della Caritas Diocesana Dicevamo di questo Incidente autonomo Proprio in via Montevecchio Di fronte al Palazzo Vescovile Il sacerdote Stava uscendo Dalla Curia A bordo Di un auto Yaris Una Toyota Yaris Ha percorso Circa 10 metri Poi ha urtato Un'auto in sosta Probabilmente Perché colto Da un malore Sul posto Sono intervenuti I vigili urbani Di Fano Ma Don Giuliano Non si sentiva Molto bene Quindi Ha preferito Rimanere in auto In attesa Dell'arrivo di soccorsi L'ambulanza Che è arrivata sul posto Ha trasportato Poi il sacerdote Al pronto soccorso del Santa Croce Ma si attendono Aggiornamenti Sulle sue condizioni di salute E pare Che comunque Abbia la febbre È rimasto sempre cosciente E quindi Nulla di grave Per fortuna Bene Grazie Simona Allora adesso Tu eri lì In centro Per Un collegamento Che ci sarà Tra pochissimo Con il sindaco di Fano Il tempo Di un servizio Il prossimo servizio Poi torneremo A collegarti A collegarci Con te Quindi Grazie Per questo aggiornamento Allora Torniamo a parlare Adesso Di aule Scolastiche Lasciate appunto In disordine Dopo le votazioni Perché oggi È intervenuta La Lega Fano Che punta il dito Contro l'assessore Cucchiarini Per le mancate scuse Alle famiglie E soprattutto Per aver scaricato La responsabilità Di questa mancata pulizia Sul personale Ausiliario Replichiamo Quelle che sono state Le parole dell'assessore Perché Oltre a non essersi scusata Con i genitori Per quello che è accaduto ieri Quindi Che si sono trovati Bambini Accompagnati a scuola Per il primo giorno Dopo la riapertura Dalle post elezioni E si sono trovate Gli ambienti Non puliti Non sanificati E nessuno Dell'amministrazione Ha pensato bene Di chiedere Di scusarsi Comunque per l'accaduto In quanto comunque È il comune Al quale spetta Proprio il comune Diciamo La responsabilità E quindi La sanificazione E la pulizia Degli ambienti Dopo la tornata elettorale Oltre a questo Si è cercato comunque Di addossare la colpa Al personale Ausiliario Delle scuole Cosa che invece Non è loro responsabilità In quanto non sono tenuti Obbligatoriamente A sistemare A ripulire O a sistemare comunque I banchi Nelle aule scolastiche Quindi che cosa andava fatto? La competenza era del comune Quindi nella giornata di martedì Giornata nella quale Dovevano occuparsi Proprio della pulizia E della sistemazione E della sanificazione Degli ambienti Dopo che per mesi Abbiamo proprio discusso Di quelle che erano Le norme Per l'apertura Delle scuole Ci sembra paradossale Che il mercoledì Nessuno si sia accorto Che gli ambienti Non erano stati puliti Non erano stati sanificati Quindi non potevano accoggersi La mattina del mercoledì Che era mancata La sanificazione E la pulizia Quando i bambini Sono arrivati lì E sono stati lasciati fuori Dalle aule Per più di un'ora Se il tempo Non fosse stato clemente Quindi ci fosse stata Una giornata di pioggia Cosa avrebbero fatto questi bambini? Come avete sentito Il sindaco Tifano Massimo Serio È stato più volte Tirato in ballo In questi giorni E allora Per sapere Per avere alcune risposte Su alcuni temi caldi Di attualità Appunto di questi giorni Ci colleghiamo adesso Con Piazza 20 Settembre Dove il sindaco È in compagnia Della nostra Simona Zonghetti Buonasera Simona Buonasera direttore Sì mi trovo in Piazza 20 Settembre Nel cuore del centro storico di Fano Insieme al primo cittadino Massimo Serio Buonasera sindaco Buonasera Buonasera a tutti i telespettatori Intanto vorrei farla replicare A quanto affermato Nella giornata di ieri Dall'ex vicepresidente Dell'Assemblea Legislativa Delle Marche Renato Claudio Minardi Che non è riuscito Ad entrare in consiglio regionale Minardi sostiene Che così Come è successo a Pesaro Anche lei avrebbe potuto Sostenirlo Avrebbe dovuto quindi Fare una scelta E supportare Aiutare Chi aveva più chance Di essere eletto Che cosa risponde? Beh Qui non è che bisogna replicare Io capisco che Quando ci sono questi momenti Ci sono delle amarezze Quelle il giorno dopo Avvengono in tutte le elezioni Ogni elezione porta Come si dice Feriti in campo E coloro che Ottengono risultati Sono contenti Il sindaco fa il sindaco Ci sono le proprie appartenenze Ho avuto un aiuto importante Poi io penso che Quando non arrivano Determinati i risultati Le colpe non sono solo Degli altri Forse qualche autocritica In generale Tutti la dobbiamo fare E chi non ha ottenuto I risultati Che si auspicava Ma qui non è soltanto Il problema Di Renato Claudio Minardi Ma anche di altri candidati Riprendendo sempre Le parole di Minardi Lui ha detto Che ha fatto tanto Per la città di Fano Per la provincia Beh intanto Ha fatto il suo dovere Perché è stato eletto Come consiglio regionale Come tutti Abbiamo anche Un'indenità importante Per fare il nostro lavoro Va riconosciuto Che ha ottenuto Tanti risultati Per la città Io per primo L'ho sempre riconosciuto Gli hanno riconosciuto In tanti Dopo è vero La politica Alcune volte è ingrata Non sempre ti riconosce Il lavoro I risultati Che tu ottieni Questo fa parte Anche dalle emozioni Da quello che Trasmettiamo Dai messaggi Che la gente Interpreta Da parte nostra Per cui Però ripeto Forse è il caso Che si faccia un po' di autocritica In senso più ampio Perché qui c'è stata Una sonora sconfitta Del centro-sinistra Dalle regionali E quando accadono queste cose C'è un perché E allora Io penso che si debba Ragionare su questo Sindaco In queste settimane Si discute anche su un eventuale Rimpasto di giunta Rimpasto che ad esempio Avviene quando non funziona l'assetto Oppure quando ci sono Dele diatribe politiche interne Che cosa sta succedendo In particolare Nella nostra città Beh intanto Non succede nulla Legato alle elezioni regionali I risultati delle elezioni regionali Non incidono Sull'assetto Della giunta Poi Se il sindaco Ritiene che ci sia la necessità Di un tagliando Come qualcuno dice Ci sia la necessità Di dare un maggior impulso Un rimpasto Un rimpasto si può fare Oppure perché avvengono Delle situazioni particolari Che riguardano Possono riguardare Alcune persone Ma sicuramente Per quello che mi riguarda E siccome il sindaco sono io Sono l'interprete autentico Di tutto questo Non ci sarà nessun rimpasto Legato al risultato Delle elezioni regionali Possiamo già dire Quelli assessorati Ad esempio Cultura Lavori pubblici Beh Quelli sono ragionamenti Che faccio io Nel momento Opportuni Poco fa Abbiamo sentito Anche nel corso Del nostro telegiornale Le dichiarazioni Rilasciate da Marianna Magrini Consigliera comunale Della Lega Lega Fano Che è punto al dito Contro il comune È ritenuto responsabile Di quanto accaduto ieri Ovvero Della mancata pulizia E sistemazione Delle aule scolastiche Utilizzate durante Le operazioni di voto Avete scaricato Eventualmente Una responsabilità Sui bidelli E si dice anche Insomma Che non ci sono state Delle scuse Da parte dell'amministrazione Comunale Nei confronti Di famiglie Genitori Quindi bambini Che sono rimasti Ad attendere Il rientro In classe In giardino Allora A prescindere da chi sono Le responsabilità Le scuse Le fa sempre il sindaco Perché il sindaco Che è una persona corretta Non si presta alle polemiche Quando qualcosa Non funziona Già sempre chiedere scusa E io lo faccio sempre L'ho fatto anche In altre circostanze Ma prima cosa Lo fa il sindaco Chiede scusa a quei genitori Per i ragazzi Che hanno avuto dei problemi Poi siccome questa cosa Non si è verificata In tutte le scuole Quindi non c'è stata Una disorganizzazione C'è stata un'incomprensione Che è stata spiegata Qui non si tratta Di scaricare le colpe Su uno o sull'altro Poi è anche vero Che se Alla fine Lasciatemelo dire Perché troppe volte Accadono situazioni Un po' paradossali Se ogni tanto Al di là delle mansioni Che noi abbiamo Ci adoperiamo Un pochettino di più Siccome c'è gente Senza lavoro E chi ce l'ha Poi fa anche le biffe Magari fa i capricci Perché questo non mi compete L'altro compete all'altro Io sono abituato Siccome ho fatto tanti lavori Mi sono sempre guadagnato tutto Non sto a vedere Io attacco anche i manifesti Come sindaco Se c'è bisogno Non lo devo solo agli altri Allora Ci sono stati dei problemi C'era stato Qui anche il ministero Ha fatto Dei trasferimenti Ci sono state Delle supplenze Quindi Ci sono state Le incompressioni Di poco tempo In alcune scuole Quindi non in tutte Quindi non è un sistema Che non ha funzionato Allora se qualcuno Invece di essere polemico E più collaborativo Le cose funzionerebbero meglio Detto questo Non voglio stare Sulle polemiche Effettivamente Quei genitori Che hanno avuto un disguido Chi rappresenta Le istituzioni A prescindere Dalle responsabilità o meno Deve sempre chiedere scusa E io lo faccio Perché se lo meritano In questa situazione Però devono stare tranquilli Perché è stato tutto sanificato C'erano piccole cose Che poi è chiaro Hanno creato Un disagio Ma comunque È stato tutto risolto Nel mondo Capita sempre Che qualcosa Non può funzionare Qualcosa può andare storto Capita in casa Di ognuno di noi Quando capita in casa Non è che andiamo A fare comunicati stampa Cerchiamo Il donirebbe ad operarsi Un po' di più Sì Comunque Ripeto C'è stato un disguido Mi dispiace Io punto il dito Su uno o sull'altro Perché non serve La cosa è stata rimediata Purtroppo anche per i cambi E per le supplenze Si è verificato questo Grazie Sindaco Per la sua disponibilità Le auguro una buona serata Direttore da Piazza 20 Settembre È tutto Restituisco la linea Allo studio Bene Grazie Simona Zonghetti Grazie anche al Sindaco Di Fano Massimo Seri Nonostante l'aumento Dei casi Delle ultime settimane Non c'è da aspettarsi Una seconda Grande ondata E probabilmente Neanche Un rapido Peggioramento Che ci ponga In condizioni simili A quelle di Francia Gran Bretagna Anche se è Un'eventualità Da contenere Che però Necessita di capire Cosa succede Nelle prossime Due Tre settimane A dirlo È l'infettivologo Dell'ospedale Sacco di Milano Massimo Galli A proposito Ovviamente Del coronavirus Intanto le marche Registrano oggi Purtroppo Un altro decesso Si tratta di una signora Di 86 anni Di Rocca Fluvione Deceduta nel reparto Di malattie infettive Di fermo L'anziana Che aveva Patologie pregresse Era risultata Positiva Al covid Dopo un contatto Stretto Con una persona Contagiata E in quarantena Intanto Nell'ultima giornata Sono scesi a tre I ricoveri In terapia intensiva Due degenti Si trovano Nelle strutture Di Marche Nord Mentre un terzo In quella di Ancona Invece I contagi Registrate Nelle ultime 24 ore Sono 17 Cinque Provincia di Pesero Urbino Quattro Ad Ascoli Piceno Tre nel Maceratese Tre in provincia Di Ancona E due Fuori regione Anche questi casi Comprendono Rientri dalla Romania E positivi Rilevati in ambiente Lavorativo Nel percorso sanitario Oltre a quattro Contatti stretti Di casi positivi C'è stata una tragedia Questa mattina A Pesero Agli orti Giuli Dove intorno Alle 8 e 30 È stato ritrovato Il corpo Senza vita Di un anziano Di 90 anni A pochi metri Dall'ingresso Del parco L'uomo Secondo una ricostruzione Dei fatti Si sarebbe suicidato Sparandosi un colpo Di pistola Risultata regolarmente Detenuta La vittima Residente a Pesero Era titolare Di un negozio Di tessuti In via Belvedere È intervenuta Sul posto La polizia In via Papiria Nella zona Di Tre Ponti A Fano Un gruppo di genitori È preoccupato Perché Ha notato Che Lo scuolabus Lascia I propri figli Praticamente In un tratto di strada Dove I camion Vanno Spesso A forte velocità Camion Che sfrecciano Ad alta velocità Invadendo Tutta la carreggiata Nessuna pensilina Né strisce pedonali E segnali Della fermata Dell'autobus Inghiuttiti Dalle piante Questa La situazione In via Papiria In località Tre Ponti Di Fano Dove anche Scendere dal bus Scolastico Ed avviarsi Verso casa È da tempo Motivo di grande Preoccupazione Per i genitori Di quei bambini Che vengono Lasciati dal mezzo Pubblico In una delle due Fermate Poste entrambe In prossimità Di due pericolosi Incroci In un tratto Di strada Così trafficato Senza possibilità Di camminare Ai lati E di attraversare La strada In maniera sicura Qui quando fa l'acqua Arriva a mezzo La strada L'acqua E i bimbi Vengono lasciati Nella formata Dell'autobus Al di qua Del guardrail Che sono attaccati Alla strada Una zona Che nonostante Le numerose Segnalazioni Fatte al comune Da parte dei genitori Rimane dimenticata Come testimonia Questa pianta di vite C'è qua A fare delle strisce Delle segnaletiche Per far vedere Che insomma C'è una fermata Di un tram A partire da sabato prossimo La Pinacoteca San Domenico A Fano Ospiterà una serie Di eventi Che spaziano Dalla letteratura All'arte Fino alla musica Eventi Organizzati Dalla fondazione Cassa di risparmio Di Fano Un'immersione Un'immersione Tra arte Musica La serie D'eventi Organizzati Dalla fondazione Cassa di risparmio Di Fano Che si svolgeranno A partire Dal 26 settembre In una location Suggestiva Come la Pinacoteca Di San Domenico L'ampro programma Si aprirà Con la presentazione Del libro Perugino Giovanni Santi Raffaello A Fano Di Dante Piermattei Studioso Di storia dell'arte Il libro appunto Prende in considerazione L'eventualità Che si sia Verificato Proprio a Fano Intorno Agli ultimi anni Del 400 Diciamo L'incontro Cruciale Fra appunto Queste Grosse personalità Che si sono Trovate insieme A lavorare Nel convento Di Santa Maria Nuova In San Lazzaro Un rifacimento Aggiornato Di un'altra pubblicazione Che feci nel 2009 Sempre Diciamo così D'accordo Con le tesi Sostenute Dal professor Zampetti E adesso Viene pubblicato Dalla Dalla fondazione Cassa di risparmio Ma gli eventi Non si fermano qui Domenica 27 settembre A partire Dalle ore 17.30 La chiesa Di San Domenico Ospiterà Il concerto Solista Del pianista Compositore Glauco Venier Iniziativa promossa In collaborazione Con il Rotary Club Di Fano Che trasmetterà L'esibizione In diretta Sulla sua pagina Facebook Nella stessa giornata Sarà presentato Anche il disco Dell'artista Glauco Venier Glauco Venier A mio avviso È uno dei più grandi Musicisti Che abbiamo Nell'ambito Giassistico In Italia Ed è Molto conosciuto All'estero Ha un'attività Sia come concertista Che come compositore Estremamente Importante Il disco Che verrà presentato La composizione Verrà presentata Domenica È il CD Miniatures Che è un disco Che lui ha inciso Nel 2016 Per la casa editrice La casa discografica ECM Il programma Si chiuderà Giovedì 1 ottobre Con l'iniziativa Risuona Italia Fatta e condivisa A livello nazionale Ed organizzata Dall'Associazione Acri Che raccoglie Le fondazioni Di origine bancaria E le casse Di risparmio italiane Il concerto Verrà realizzato Dall'orchestra Di fiati Fanno un fortuna E diretta Dal maestro Sauro Nicoletti È un inno Alla gioia Che cerca Di unire Il nostro paese Con le orchestre Giovanili Ma ci sarà Anche alla sera Alle ore 21 Un concerto Con un programma Più allargato Sempre presso La pinaicoteca Di San Domenico Ed è tutto Per l'informazione Grazie Per aver seguito Occhio alla notizia Tra poco Le previsioni del tempo La pubblicità E uno speciale Dedicato alla consegna Dei bonus Bebè L'appuntamento Con l'informazione Per domani mattina Alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci La pubblicità di San Domenico La pubblicità di San Domenico